Guarda, Guangesus è un giocatore di prima qualità e noi stiamo cercando di fare mercato cercando giocatori di prima qualità. Naturalmente di prima qualità e anche in considerazione con la valutazione di quello che in questo momento la società può permettersi. Perché è tutto insieme, però noi vogliamo giocatori di prima qualità per quella che è la nostra potenzialità. Noi stiamo lavorando forte per portare il meglio possibile, per quello che la società in questo momento può permettersi.